Il profeta Isaia lo dice a tutti coloro che sono smarriti nel cuore. E in questo modo incoraggia il suo popolo e, pur immesso alle difficoltà e alle sofferenze, l'invita a levare lo suo in alto, qualcuno ha risolto di speranza e di futuro. Dio viene a salvarci, Egli verrà in quel giorno, si apriranno gli occhi, gli incecchi e si chiuderanno gli orecchi del sole.